Grazie a Ordi e a tutti per l'invitazione, mi italiano, mi castigliano, mi catalano. Io parlo in italiano piano, sentite bene la traduzione? Alcuna vez parlo anche in spagnolo. Bene, muchas gracias, mi collega ha iniziato già molto bene la problematica centrale della malattia di Fabri, oggi che è la diagnosi precoce in età pediatrica. Allora, questo è importante, noi pediatri siamo al centro perché questa è una malattia progressiva per cui adesso la politica sanitaria deve portare la capacità di diagnosi di questa malattia sempre prima. Capite bene? Quindi noi parleremo di questo oggi, della diagnosi precoce. C'è interferenza? No. E noi dobbiamo saper parlare sempre con i genetisti, con i nefrologi, con i neurologi e con i cardiologi. Due o tre cose fondamentali, due minuti prima di arrivare al cuore del problema pediatrico. La malattia di Fabri è una malattia progressiva che ha un impatto che può essere terminale su certi organi. Questo io lo faccio vedere molto bene, questo è il Fabri pediatrico, giovane adulto e poi o progressivamente o rapidamente passiamo nella fase adulta che vuol dire rene, che vuol dire cuore, vuol dire sistema cerebrovascolare. La malattia di Fabri è una malattia curabile, una rivoluzione, è stata la seconda malattia curabile genetica per la terapia enzimatica dopo la malattia di Gaucher. C'è un'interferenza? A chi? A forse tolgo questo, tanto io parlo forte. Ah, non importa. Vi sentite lo stesso? Va bene? Allora, questo è molto importante. La malattia di Fabri è veramente il posto, la malattia che ci ha insegnato a noi che, come noi, ci siamo occupati da tanti anni di malattie pediatriche. Abbiamo imparato la malattia di Fabri a curarle a livello dell'enzima o a livello del substrato. Quindi vedete che parliamo di terapia enzimatica, parliamo di terapia genica, parliamo di terapia orale. Tante cose, tanta speranza che viene fuori per queste malattie qua. Gli enzimi sono stati fatti in laboratorio, ci sono anche queste nuove terapie usando la terapia orale che serve ad aumentare nelle forme con attività residua la capacità enzima. Adesso arriviamo a uno o due concetti chiave per capire alcune cose che vi dirò in pediatria. Quindi noi abbiamo detto molto bene, Enrico, abbiamo un enzima che è zero oppure ce n'è un po'. E qui è tutta la differenza, è molto importante capire questo. Qualche anno fa c'è stata una seconda rivoluzione nella malattia di Fabri. Abbiamo l'enzima, abbiamo l'accumulo, ma abbiamo un secondo personaggio, il Liso, che ha cambiato moltissimo nella nostra riflessione nel capire le cose in questa malattia. Questo è un meccanismo, io mi occupo di infermietà metabolica da tanto tempo, e vuol dire che qui c'è uno stop, qui si accumula, e allora questo cerca una strada alternativa. Come quando si va da Madrid a Barcellona e c'è il blocco, e qui bisogna cercare una strada alternativa, e si accumula tanta di questa sostanza in cui è stato tolto un acido grasso. Ma qui si accumula tantissima, e allora vediamo perché è importante. Seguite bene? Allora, questo è il concetto che io cerco di spiegare sempre ai miei colleghi a livello mondiale, internazionale, perché noi pochi del metabolismo e della genetica dobbiamo dare questi concetti. In tutte le malattie metaboliche ci sono sempre queste tre situazioni. O zero enzima, quindi tanto accumulo. Un po' di enzima, poco accumulo. Tanto enzima residuo, nessun accumulo. Malattia classica, malattia leitonset, chiamiamola, o malattia benigna. Chiaro? Questo è per il Fabri perfetto. E questo è l'errore che molto spesso la comunità scientifica fa quando parla di malattie di Fabri. C'è questa corsa a fare il genotipo e il fenotipo clinico. Errore drammatico. Bisogna introdurre, e sono contento di spiegarlo bene a voi, il concetto di fenotipo metabolico, che vuol dire, come ha detto bene Enrico, conoscere com'è l'attività residuo, ma soprattutto adesso è molto facile sapere quanto è il liso. Molto facile adesso fare la diagnosi. Ok? E poi andare a vedere com'è il paziente. Ma devi avere tutto. Capire il paziente, capire com'è il metabolismo e poi dici che cos'è quella mutazione. Ok? Quindi, noi abbiamo queste tre forme. Forma classica, grave, forma late onset, e poi la grande categoria delle varianti a significato incerto, di polimorfismi, di penotipi benigni, come vuoi. attività enzimatica molto alta. Quando i colleghi dell'Olanda hanno scoperto il liso, ci hanno detto per la prima volta, pochi anni fa, nella malattia di Fabry, che c'era un qualcosa, questo liso, che si accumulava cento volte la norma nel paziente classico, e poi meno negli altri. E ci permetteva facilmente di fare la diagnosi e di seguire meglio il paziente e la risposta terapeutica. Ok? Questi sono dei miei studi che ci dicono, in maniera netta e definitiva, che nei maschi con malattia di Fabry l'iso ti fa la diagnosi subito, facilmente, la forma e la prognosi. E nelle femmine stiamo lavorando perché ci sono dei dati interessanti. Anche nelle femmine la gran parte ha un liso alto, però c'è ancora del overlap. Chiaro? Allora, questa è un poco un cambiamento di mentalità. Allora, con i miei colleghi italiani, io dico che adesso il Fabry classico è questo. riscontro di concentrazioni di liso molto elevate nel maschio, boom, diagnosi finita, attività assente e poi vado a vedere la genetica, mutazioni gravi e poi i segni e sintomi che sono in età pediatrica o sono compatibili con una forma classica. Molto più difficile dare una nuova definizione del fenotipo classico nella femmina in cui dico che è molto importante avere una diagnosi sicura di un Fabry classico maschio in quella famiglia vuol dire che quella famiglia è classica oppure se tu non hai un componente maschile della famiglia in cui tu hai il laso molto alto devi avere una bimba che ha i segni tipici precoci della malattia oppure delle mutazioni che sono molto gravi come ci ha detto bene il collega e il liso lo stiamo vedendo se ci aiuterà a dire questo. Allora adesso arriviamo alla pediatria cerco di darvi i concetti principali ma era importante dirvi alcune di queste cose se no non riuscivamo a chiudere il discorso facciamo insieme a voi questo viaggio in questi quattro punti allora la malattia di Fabry in pediatria ha una presentazione caratteristica poi vi farò vedere in anteprima e mi fa molto piacere presentarlo in un consenso di genitori di pazienti dei dati di uno studio italiano proprio su come riusciamo a fare la diagnosi le ho presentate solo 15 giorni fa allora facciamo la diagnosi se siamo dei buoni clinici e qui è terribile non riusciamo vi farò vedere a fare la diagnosi di questa malattia dal punto di vista clinico in pediatria è difficilissimo è lo screening familiare che ci permette di fare la diagnosi ancora adesso del Fabry nei nostri bambini poi vi dirò due cose su questo nuovo scenario dello screening neonatale ok allora io dico sempre quando spiego ai colleghi ai miei studenti ci sono otto cose che un pediatra deve sapere occio per pensare alla malattia di Fabry riscontro della cornea verticillata riscontro dell'angio chiratoma un bambino che fa attività fisica e non suda deve deve far pensare la gran parte 50% dei pazienti Fabry pediatrici vanno dal gastroenterologo pediatra perché hanno sintomi dolori addominali ricorrenti diarrea vomito altro 40% va dal reumatologo pediatra e non dal neurologo per questi dolori le acroparestesie o quelle crisi dolorose che sono scambiati per problemi reumatologici all'inizio questa è la realtà alcuni bambini iniziano con una storia di febbre ricorrente e poi dico due cose nuove importanti dico sempre ogni bambino adolescente con un riscontro occasionale di albuminuria di proteinuria deve fare subito la diagnostica del fabri e adesso stiamo lavorando sulla identificazione di alterazioni inizialissime dell'elettrocardiogramma che sono l'intervallo PR corto o il riscontro di una bradicardia non sintomatica possiamo aprire anche lo scenario della diagnostica del fabri adesso qui andiamo rapido conoscete bene questa è la cornea verticillata allora ve lo anticipo nella survey italiana che abbiamo fatto tutte le femmine che abbiamo diagnosticato le ha diagnosticato l'oculista l'oculista che per caso facendo una visita per caso ce l'ha mandato per la cornea verticillata quindi la visita oculistica è un momento un'occasione di diagnosi unica per questa malattia riscontro di angio chiaratomi è chiaro che se il dermatologo fa quello deve indirizzarlo il minuto dopo da noi a fare la diagnosi l'ipoidrosi molto importante lavorare con i gastroenterologi perché i bambini possono avere tutte queste cose qui dolore ricorrente diarrea ma vedete come in pediatria dalla malattia sediaca alla sindrome del dolore addominale ricorrenti il Fabri va in diagnostica differenziale con questo poi naturalmente la neuropatia subacuta o cronica classica il dolore urente questo dobbiamo pensarlo e poi molto interessante questo lavoro che ha fatto vedere che su 58 pazienti Fabri retrospettivamente un 20% aveva nella storia prima di portarli alla diagnosi Fabri una storia di febbre FIUO fever of unknown origin questo è molto interessante quindi queste sono le cose o facili o difficili che vediamo in pediatria ma non riusciamo ancora a fare queste diagnosi bene quindi la diagnosi è difficile è ritardata e vedete questo lavoro degli americani che spesso questi bambini vanno a finire nel calderone della febbre reumatica dolori di crescita artrite reumatoide sindrome di dolori ricorrenti io sono andato a vedere l'inizio della mia casistica dei fabri classici pediatrici con la malattia estremamente estremamente importante vedete che parliamo di classici solo il 30% avevano il fenotipo esteso con tutte le cose che ci aspettiamo alcuni pazienti avevano dei sintomi periferici sfumati alcuni quasi niente e sono arrivati tutti alla diagnosi a 25 o 30 anni o dal nefrologo o dal cardiologo quindi vedete come è come è difficile la situazione torniamo al concetto chiave e il genetista e l'utilizzo ottimale dell'analisi dell'albero genealogico che oggi ancora oggi in Italia non so in Spagna ma credo che sia la stessa cosa che ci fa fare il 90% delle diagnosi di malattie di fabri in età pediatra adesso vi faccio vedere i dati parleremo poi un attimo dello screening neonatale io adesso vi faccio vedere in anteprima alcuni dati di vita reale seguite siete stanchi va bene seguite bene riesci bene allora noi abbiamo fatto tutti i colleghi pediatri che si occupano di malattie di fabri in Italia coordinati da sottoscritto abbiamo fatto una survey una survey abbiamo deciso di fare la fotografia di quanti pazienti fabri pediatri avevamo a marzo del 2022 ok vedete tutti i centri allora la fotografia 183 pazienti sotto i 18 anni con una mutazione fabri come ne abbiamo diagnosticati la gran parte abbiamo 3-4 regioni che fanno lo screening neonatale e una parte con la clinica o con lo screening infamiliare quello che mi interessa dirvi adesso è questo di questi 120 pazienti 66 di cui più o meno metà e metà maschi e femmine avevano un fenotipo classico quindi malattia importante grave che va seguita bene e curata bene ok allora vedete e questa è la cosa che ci ha fatto molto riflettere l'85% di questi pazienti sono stati diagnosticati perché c'era uno zio un papà una mamma qualcuno che dall'albero genealogico solo il 9% perché il pediatra se ne è accorto e 6% dallo screening va bene andiamo avanti volevo dirvi questo ecco questi sono i segni presenti l'acroparestesia e i dolori abdominali ma il dato forte che la stragrande maggioranza di questi pazienti diagnosticati mediante screening familiare avevano già dei sintomi quindi erano stati dal gastroenterologo erano stati dal reumatologo e non avevano mai fatto la diagnosi quindi è molto importante per questo questo è l'utilizzo la cornea verticillata che ha permesso a livello clinico altra cosa molto importante che ci fa anche riflettere come dobbiamo probabilmente cambiare un po' atteggiamento in questa malattia soltanto il 30% di questi pazienti aveva iniziato dei classici una terapia quindi c'è ancora molto lavoro da fare quindi questo è il messaggio finale di questa survey per dirvi che il 90% dei classici li abbiamo trovati con la genetica con lo screening familiare e soltanto il 10% perché la cornea è verticillata o perché un pediatra particolarmente bravo ha visto quei dolori e ha richiesto l'enzima la cosa impressionante è questo che l'87% dei pazienti diagnosticati per screening familiare erano tutti già sintomatici vedete quanto lavoro c'è ancora da fare e poi in terapia ne abbiamo solo un terzo questi sono dati originali nuovissimi che però ci servono a capire meglio il fenomeno per arrivare a dire che cosa noi quando abbiamo iniziato siamo stati a Torino i precursori a livello mondiale dello screening della malattia di Fabri abbiamo visto la possibilità di dosare questo enzima sulla goccia di sangue abbiamo pubblicato questo lavoro che ha cambiato la percezione epidemiologica non solo della malattia di Fabri ma di tutte le malattie genetiche e abbiamo visto tutta una serie di situazioni quindi abbiamo trovato classici late onset gvus di tutto e questa è la sintesi noi abbiamo trovato uno su 3000 la frequenza del Fabri classico di fatto è vera è uno su 30.000 uno su 40.000 la popolazione generale il Fabri non classico intorno a uno su 3000 uno su 5000 e il resto sono sono pazienti vus se io metto assieme i classici con i veri late onset abbiamo circa uno su 7.000 nella popolazione generale che ha una malattia di Fabri che prima o poi deve essere curato ok dopo il nostro lavoro molti altri stati hanno fatto questo hanno confermato esattamente che cosa abbiamo trovato quindi la malattia di Fabri è stata la prima malattia al mondo a essere oggetto di uno screening neonatale la prima malattia cronica progressiva con un esordio più tardivo a essere oggetto di uno screening neonatale quindi ha costruito proprio un po' la storia della medicina pediatrica della medicina genetica adesso ancora 5 minuti vi faccio vedere alcune cose importanti da capire sul perché è importante fare la diagnosi percoce e perché bisogna curare rapidamente questi bambini la malattia è silente la malattia di Fabri è silente è silente lavora ma è già presente molto rapidamente molto presto già a livello fetale e nei primi anni di vita questi sono gli studi dei nostri colleghi norvegesi che fanno vedere che bambini totalmente asintomatici senza proteinuria ma il loro glomerulo il loro rene era già pieno di accumulo ok questo è un altro messaggio molto importante che ci dice il perché alcune cose che vi dirò perché curare un Fabri classico fra gli 8 e i 10 anni di vita perché hanno fatto vedere chiaramente che c'è un altro meccanismo del rene questi pedicelli dei podociti una cosa difficile da dire ma c'è la struttura del rene che comincia a rompersi fra intorno ai 10 anni è stato dimostrato a questo questo studio quindi è un segno importante per noi la malattia di Fabri io mi occupo di tutte le malattie disosomiali MPS Gaucher tutto qui sono abituato pompe avere il neonato disosomiale grave la malattia di Fabri è silente ma è già tutta presente a livello di studi prenatali gli accumuli ci sono già nei podociti fetali nei cardiomiociti e noi il mio gruppo ha dimostrato per la prima volta che il neonato il neonato maschio ha già i livelli di laiso che è già 20 volte la norma quindi c'è una intossicazione presente già molto presto questo è suo fratello ma soprattutto questa è la diapositiva che ha cambiato il modo di pensare un po' questa malattia e questa vedete questi bimbi che poi sono stati dimostrati di altri miei colleghi di Firenze il liso sale e verso i tre anni si stabilizza cosa vuol dire che l'accumulo è già presente molto precocemente molto alto e poi si stabilizza quindi in qualche modo ho coniato un po' portato questo concetto anche nella malattia di Fabri di sindrome di intossicazione lisosomiale precoce che non vediamo come vediamo nel pompe come vediamo nell'MPS però si deve far riflettere questo è il mio primo paziente in cui abbiamo fatto la biopsia a dieci anni vedete aveva l'iso altissimo a 80 e poi ha cominciato a avere verso i 11-12 anni le acroparestesie e vari problemi quindi quarto punto capire quali sono in pediatria i pazienti ad alto rischio ve l'ho già detto prima è facilissimo l'iso ci dice la percezione del rischio dividere le due categorie l'ho visto bene nei miei neonati l'ho visto bene in queste categorie qua per cui noi possiamo dire che poiché l'iso a 2-3 anni è già alto è già quello che io mi aspetto io su un paziente verso i 2-3 anni ho già il fenotipo definitivo ok ed è molto facile per dire quindi i pazienti con valori molto molto alti che sono pazienti classici io posso già prevedere e programmare in accordo con le famiglie le decisioni terapeutiche ok adesso gli ultimi 5 minuti parliamo di alcuni aspetti terapeutici dopo le cose che vi ho detto noi in pediatria dobbiamo fare tre cose dobbiamo impattare su quello che i nostri figli i vostri figli hanno cioè quei sintomi che impattano sulla vita quotidiana il fatto di sudare poco di essere stanchi di avere male di non fare attività fisiche di non poter fare questo vediamo come la terapia enzimatica ha impattato sulla biologia su questi valori di riso e come ha impattato sulla storia renale precoce di questi bambini questo è un lavoro che abbiamo fatto con i vari colleghi un lavoro di un riassunto summary di quello che è stato pubblicato fino adesso ma ormai possiamo dire in maniera netta che l'inizio della terapia enzimatica precoce in questi bambini ha un impatto estremamente importante sul sintomo dolore sul sintomo gastrointestinale magari ci vogliono due anni magari ci vogliono tre anni ma alla fine si arriva a un ottimo risultato e l'enzima riesce a ridurre i valori il tossico e l'aiso ma questo lo vedremo meglio dopo qui sono i vari studi che hanno fatto vedere come l'impatto della terapia enzimatica sul dolore addominale sul vomito sulla nausea sulle assenze scolastiche queste sono ormai cose che sappiamo questi sono altri studi che vanno a valutare le acroparestesie dolore addominale il livello energetico la performance all'esercizio fisico tutte delle scale che fanno vedere molto bene come il bambino che inizia terapia a 10 11 12 13 anni migliora molto questi score e anche e anche in molti pazienti con dolore molto grave si è riusciti a dimezzare e poi annullare l'uso della per esempio della carbamazepina dopo un anno dopo due anni di terapia enzimatica molto importante questo concetto che introduce una cosa nuova la risposta biologica alla terapia questo è importante qualsiasi terapia voi vogliate fare deve fare questo cioè abbassare l'iso entro i 3 6 mesi di almeno il 70-80% nei pazienti maschi questo ormai è chiaro dobbiamo dobbiamo dirlo in maniera forte e chiara è stato fatto vedere che prima inizi la terapia prima abbassi l'iso e lo abbassi in maniera molto significativa per quanto riguarda l'impatto sul rene questo è il lavoro che ha fatto il giro del mondo della torre satonde curato un bambino di 7-8 anni per 5 anni al basale dopo 5 anni e ha dimostrato sull'istologia del rene che gli accumuli di queste sostanze tosse che di questi spingolipidi scomparivano del tutto o quasi del tutto questo è un lavoro che è uscito da poco molto molto importante inizio della terapia enzimatica precoce hanno confrontato 7 maschi con fabbri classico con 23 maschi sempre con fabbri classico e sono andati a vedere soprattutto la prognosi renale quindi pazienti che hanno iniziato la terapia prima dei 16 anni e che hanno avuto una terapia che è durata almeno 10 anni questo è importante fa vedere in maniera netta questo è il primo lavoro è difficile avere questi dati ben collezionati il primo lavoro che soltanto i pazienti che non sono stati curati o sono stati curati tardivamente hanno mostrato un aumento dell'albuminuria gli altri hanno avuto in questi 10 anni hanno avuto una totale preservazione della funzione renale della funzione podocitaria dell'albuminuria questo è un lavoro molto recente ma estremamente importante questi sono due miei pazienti personali i miei primissimi pazienti tanti anni fa questo paziente ha iniziato la terapia a 17 anni e aveva già una proteinuria 0507 ed è rimasto stabile allora non c'era ancora questo concetto ma io decisi di farlo lo stesso il cugino non aveva ancora assolutamente albuminuria 15 anni l'ho curato e non ha sviluppato non ha sviluppato albuminuria nei 10 anni quindi è chiaro che tutto questo discorso che vi ho fatto per il concetto della malattia progressiva noi abbiamo iniziato a conoscere il Fabri qui forse un po' tardi poi sempre di più noi pediatri abbiamo il dovere il dovere di lavorare in questa fase della malattia ed essere forse anche un po' non dico aggressivi però proporre delle terapie che permettano nel tempo di evitare l'accumulo a livello tessutale e avere un danno d'organo definitivo quindi noi che avremo di fronte come bambini avremo i pazienti ad alto rischio che sono le forme classiche ci sono le due filosofie chi decide di curarli comunque subito intorno agli 8-10 anni anche in assenza di sintomi ed è quello che io dico oppure comunque i colleghi devono seguire da vicino la parte cardiologica la parte renale tutto e quando c'è la minima cosa è così iniziare rapidamente nelle forme con fenotipo late onset è chiaro che abbiamo più tempo più spazio ma anche qui dobbiamo lavorare molto sul follow up il follow up oltre alla parte renale e soprattutto interfacciarci con gli amici cardiologi e rivalutare molto bene l'elettrocardiogramma che ci dice un sacco di tantissime cose l'ecografia e poi il T1 mapping più raffinato vedremo però il messaggio è questo o approccio preventivo per il rischio che c'è la malattia o estremamente precoce quindi penultima diapositiva io penso che bisogna iniziare la terapia nei bambini prima possibile prima possibile vuol dire che non è che io decido è una decisione comune in queste malattie croniche dobbiamo decidere assieme ma noi abbiamo il dovere come medici di dopo studi sulla biologia sull'evoluzione di dire le cose io le dico così che qui dobbiamo non aver paura anche di farlo due o tre anni prima la seconda è forte anche in assenza dei segni tipici dolore però se tu hai un fabbri classico noi sappiamo che la malattia è all'iso già molto alta il rene inizia a riempirsi di accumulo e quindi io propongo la terapia preventiva to cure terzo molto importante quando si cura un paziente bisogna anche capire come funziona questa terapia perché la risposta clinica ci vuole del tempo ma l'iso nelle forme classiche ci dà una grossa mano e noi dobbiamo condividere con voi questi risultati e dire se veramente c'è stata una risposta e ultima diapositiva riprendo la diapositiva iniziale spero di non avervi annoiato troppo ma è importante che vedete com'è importante avere bene il concetto della storia naturale di questa malattia perché veramente dobbiamo aiutare la comunità pediatrica tutto da fare la diagnosi percoce e io penso che molto probabilmente e questo lo stiamo già valutando in Italia pensare allo screening natale almeno delle forme classiche della malattia di Fabri sia una azione di grande pediatria e di medicina preventiva vi ringrazio molto per la vostra attenzione no se si la pregunta che vi faccio però in mio caso Manuel è il afectato e io tengo un hijo a mio hijo hace molto tempo le hicieron il studio e se descartò che non ha avanti e lui dice che non ha avanti non ha avanti e io gli dico no, tu hijo non lo van a tener però io come sanitaria che sono sanitaria penso la genetica sta totalmente cada giorno cambiando come qualquiera persona della preparazione general però è raro è excepcional però nada mai io vorrei per preguntar due cose la prima è dire al dottor Enrique Galan preguntarle se il padre non lo tiene non è enfermo di Fabri e la madre non è enferma di Fabri e il nino tiene Fabri eso può surgire alguna volta può passare alguna volta può passare evidentemente può passare il che un nino si è un varone evidentemente di venire di alguien viene di la madre eso sta chiaro del padre non va a venir però se la madre sta sana non tiene síntomas non tiene nada estudios bioquímicos e noi abbiamo il estudio genetico nel chico hecho e conosciamo il estudio genetico con una variante patogénica e la mamà non la tiene non podemos descartar che la mamà non tenga homosexismo germinal con seguridad 100% però perfectamente può essere una mutazione entre comillas una variante patogénica di nuovo e che sia mutato entre comillas per primera vez en ese chico può essere e un'altra che sono professionale che stanno abbastanza con il tema di fabri qual è il problema o qual è il baremo di che uno piensa di una maniera e l'altro piensa di un'altra che non passiamo domanda è molto importante non devo dire che devo aspettare e tutto tutto è claro è importante poi hai delle cose pratiche la famiglia non è pronta però io devo dire che bisogna iniziare nel maschio nella femmina classica femmina perché io creo che qui hai muchas di queste situazioni icas di 10 12 14 anni io creo che se non tiene ancora sintomi importanti si può aspettare un poco ma non tanto io creo che adesso anche noi in Italia stiamo pensando di anticipare anche nella ic con la la forma classica quindi è un problema io non sono d'accordo nell'importante la classificazione il baron con l'iso a 80 o 100 e con una in una famiglia classica devi cominciare la terapia e qual è il problema entonces il problema è io non se però è no è importante hai muchos problemas praticos però se tu tiene un medico che è un poco timido allora vuol dire che poi la terapia la inizia a 15 anni a 18 se non tiene un medico timido la inizia a 12 o 13 bisogna essere io non so se dal punto di vista politico regolatorio noi possiamo fare la terapia preventiva a partire dagli 8 anni per 7 o 8 anni allora io dico a partire dagli 8 anni se può regolatorio non hai problema se ico tiene dolore ante tu cominci la terapia ante esto non so se posee il sistema espanolo non conosco exactamente a ver io sto d'acuerdo con il dottor Marco Espada sto d'acuerdo però d'acuerdo io non tengo segura che una chica che tenga afectazione e che non tenga sintomi importanti quando empezzarla o no eso non lo tengo muy claro para empezar pero con respecto a la pregunta que hacía que pasa porque unos si otros no yo creo que en primer lugar debe ese paciente debe ser visto por médicos adultos pediatras que se dediquen a esto que se dediquen a esto y que conozcan esto bien y que estén acostumbrados a hacerlo cuidado y que peleen por ello no se puede imaginar no te puede imaginar y aquí Jordi lo sabe y también colegas de alfabanosidosis lo que hemos peleado algunos con la autoridad sanitaria no te lo puedes ni imaginar si si lo sé te lo puedes imaginar porque aquí el problema es que tenemos tantos sistemas sanitarios en España que cada uno hace lo que quiere y no somos todos iguales es triste que una persona en la Siberia extremeña no tenga derecho que el que vive igual derecho que el que vive en la Cala de Henares por decirte lo mismo no lo tiene es así de triste porque no porque somos todos iguales en España la desigualdad entre las comunidades autónomas entre diferentes gobiernos no hay un acuerdo para todos por ese motivo nosotros en primer lugar yo me acuerdo en alguna reunión en el ministerio que al ministro en una reunión no sé si estaba Jordi que yo le dije que no éramos todos iguales y se lo dije con nombre que me dijo de dónde era yo para decir eso y le dije dónde era y le dije que no teníamos la misma atención sanitaria en diferentes sitios del país ni teníamos la misma disposición ni los pacientes tenían el mismo derecho por esto que les cuento porque debiéramos tener que a nivel nacional los medicamentos huérfanos estuvieran bien establecidos para que pudieran ser prescritos con el mismo derecho en todo el país eso es lo que tengo clarísimo pero no está hecho y solo una aclaración a la chica que ha hablado antes del tema del embarazo de sus hijos no sé si alguien lo podrá explicar algún doctor o algo pero hay una una manera de tener niños no es la natural pero hay una manera que lava la seguridad social en el tema para que aquella persona que quiera tener hijos sanos que quiera tener hijos puede solicitarlo a cualquier médico o a su médico y ellos le manden a una clínica especializada gratuito para nosotros en el tema de que puedan tener por por su locación puedan tener familias sin tener que ser enfermos los niños automáticamente lo es correcto amigo por eso digo que para la chica hay mucha gente que no muchos pacientes que no lo saben entonces les dificulta muchísimo ahora en las parejas de tener hijos por el tema de que salgan enfermos entonces hay una manera por la cual una persona puede solicitarlo a su médico se le manda a una clínica especializada y esa clínica escoge por supuesto el clomosoma sano y tienen todos los hijos sanos ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo mire si usted a un paciente o a una familia le remiten a asesoramiento genético a una a un servicio de genética o una unidad de genética o una unidad de reproducción asistida ya está orientado no hay ningún problema se hace así correctamente se habla mucho de la forma clásica pero no de las formas no clásicas entre ellas por ejemplo la micense yo entiendo que se hace un estudio genético un estudio del residuo lisosomal y después lo que se hace mirar las características propias de cada enfermo mirar una serie de características que tengan propias de la enfermedad que coinciden con ella entonces en con referencia al tratamiento para este tipo de personas incluso que fuera un niño porque puede ser también un niño ha disminuido por ejemplo la alfa galactosidasa en un 1,8 sobre papel seco a 1,3 por ejemplo y se está y se está viendo que va reduciendo aparece una hipertrofia aparece puede aparecer bastante problemas adjunto ¿por qué no se le da al tratamiento? ¿por qué no se por qué en este caso se espera tanto a que haya un fallo renal un fallo cardíaco es decir no haya algo como una metodología preventiva una pregunta 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 question pregunta pregunta respuesta la pregunta la domanda answer ottimo punto molto importante molto importante ma penso che mi potete aiutare dal punto di vista didattico educazionale è importante che noi portiamo a casa il risultato pieno sulla forma classica in pediatria ed essere molto perché ci sono ancora tante cose non chiare non fatte la forma ley tonset è il problema principale nel dibattito medico è esattamente questa la situazione che ci troviamo a discutere con i cardiologi con i nefrologi che noi sappiamo che una forma ley tonset verso i 45 50 anni può avere dei problemi molto gravi perché non fare una terapia preventiva prima questo è la è la e non l'abbiamo ancora scritto ma sicuramente è importante avere queste sollecitazioni perché credo che lei abbia ragione non so se ho risposto io voglio fare una domanda al dottor Marco sobre 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 so so difficile il cribato renatale il cribato renatale a nosotros in spagna bueno la verdad è che stiamo intentando una serie di frage metabólica come MPS come MPS come Gocher come Fabri evidentemente che sappiamo che il diagnosi precollo è fondamentale come sta Italia io ho la possibilità sono nella comissione nazionale del cribato nazionale e quindi stiamo valutando avanti il MPS 1 il Gocher il Fabri e il Pompe il Fabri è la question se ha il classico il Leitonset e non tutte le 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 perché ha un problema e vamos a vedere come come fare ma il principio del cercare di fare il diagnostico precoce delle forme gravi e sta diventando nel giro di due anni una legge nazionale in Italia Così la pregunta si però iba prontato no 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 porque iba a hacer otra pregunta no pero era acerca acerca de una una niña de 6 años que tiene pues una mutación di Fabri perché la tiene sua madre e quindi ella se pregunta qual è la attuazione a fare e in questo io ti quería preguntar in la pratica clinica Marco come faccio per la valorazione del grado della gravedà o della severity di una forma per diferenciare le forme classiche le forme non classiche soprattutto in niñas cosa faccio io? bisogna parlare delle cose che più o meno nel maschio classico io dico alle famiglie iniziamo comunque il trattamento in assenza di sintomi intorno ai dieci anni se ci sono dei sintomi subito nella femmina è difficile avere dei sintomi quindi abbiamo non diamo l'idea che bisogna farlo subito in maniera preventiva ma dobbiamo valutare in maniera molto molto precisa la sudorazione il fatto che uno non sudi è un segno sembra un segno piccolo ma è un segno di malattia che sta partendo la sintomatologia gastrointestinale precoce vuol dire che la malattia sta partendo quindi curo la microalbuminuria curo subito e quando l'elettrocardiogramma letto bene da colleghi che conoscono bene il problema e fanno vedere che c'è un PR corto c'è una bradicardia non spiegata io penso che bisogna curare quindi nel maschio in assenza di sintomi curo subito nella femmina classica seguo da vicino e alla prima primissima a Visaglia dico alla famiglia che bisogna iniziare in alcune situazioni in alcune situazioni è stato utile più avanti verso i 15 18 anni perché la situazione non era così chiara abbiamo anche fatto la biopsia renale per capire ma questo deve essere fatto solo in situazioni estremamente selezionati non bisogna fare la biopsia renale non serve bisogna farlo quando bisogna condividere una decisione che forse anche il clinico non ha le idee chiare per cui ripeto maschio preventivo 10 anni i sintomi poco sudore dolore dolore addominale un po' di proteinuria subitissimo perché sappiamo che questo spegne la malattia o comunque ci dà un vantaggio enorme nella gestione futura di questa malattia non so se ho risposto nella forma late onset che è la cosa più difficile più difficile io sto iniziando a lavorare moltissimo la parte renale riusciamo ma è il cardiologo che a un certo momento è chiaro che noi dobbiamo decidere la forma le due mutazioni late onset tipiche la N216S se curarli tutti a 20-25 anni o iniziare a curarli a 40 questo è una questione difficile però pian pianino ci avviciniamo non so se ho risposto voi siete molti genitori avete se è stato utile questo che vi ho detto approfittate fate domande siamo qui insieme perché per me è un'occasione molto bella poter convivere io ogni volta imparo moltissimo da questi da questi momenti la medicina è una cosa difficile è un'arte è un'arte ma non è democratica allora noi medici dobbiamo prendere posizione se no non serviamo a voi poi dobbiamo discutere con voi quindi la decisione è poi comune ma la cosa peggiore per voi è avere un medico che è incerto è chiaro che ci sono delle cose difficili che poi noi ce le studiamo ma voi avete il diritto di avere dei medici che vi dicano che cosa fare e non va a voti non va a delfi a mani alzate bisogna avere un convincimento forte questa è una malattia che deriva dalla conoscenza delle altre malattie di isosomiale io sono stato il primo nella malattia di pompe a dare quattro volte la quantità di enzima a quindici giorni di vita quindi io penso che Fabri pian pianino riusciremo veramente a renderla una malattia veramente poco poco malattia io vorrei darles las grazie perché è il mio caso grazie al dottor Pinto per exponerlo io credo a mi mi ha aclarato bastante con lo che ha contato è vero che qui è molto difficile perché i pediatri non sape di questa enfermedade quindi ti derivano a todo tipo dolore di estomago vete al digestivo e il digestivo te manda no se che te pasas media vita dando vueltas a no se sabe che e con dolore quindi darle moltissimas grazie poi voglio fare una pregunta tengo los dos casos tengo una niña con 6 anni che tiene la enfermedade Fabri sabemos que la tiene perché nada nacer le hicieron una genética donde se ve que tiene la enfermedad y luego tengo un niño varón de 3 años por selección embrionaria vale entonces quiero hacerle una pregunta cuando tú haces la selección embrionaria no te osea genéticamente tú te fias de lo que te están diciendo pero realmente no tienes ningún dato es verdad que siempre existe una posibilidad y tal no tienes datos no te hacen ni prueba genética ni nada no sé si eso sería viable sería posible porque yo siempre tengo ahí la duda porque hay veces que tiene problemas también de estómago que puede ser cualquier otra cosa no el fabri pero es verdad que te ronda esa duda esa idea de decir puede ser posible puede ser el 1% que da la mala suerte eso es excepcional pero normalmente cuando se hace selección embrionaria se selecciona bien como es lógico pero luego se suele hacer un prenatal también o sea que se hace un prenatal y se comprueba yo es que a ver también diáles en la pandemia entonces bueno como se hace se hace normalmente tú de selección embrionaria eliges el embrión sano y luego se hace un prenatal y se comprueba que viene bien siempre yo no eso así o sea que lo puedo solicitar vale bueno si no lo tiene hecho no porque ya te digo fue pandemia o sea que eso fue un caos gracias a que di a luz y no lo di en mi caso o sea que con eso tuve suficiente y luego yo tengo una duda también con la selección embrionaria me resulta muy curioso que no sé si es una teoría de estas que circulan por internet pero existiendo un mínimo por ciento de posibilidades de que no saliera bien como es posible que fecunden a un varón siendo más o sea más complicada la enfermedad en un varón que en una en un hombre que en una mujer ya pero a ver una cosa es que haga selección embrionaria basándose en sexo y otra que se haga basándose en alteración genética no tiene sentido da igual que eliges a hombre que mujer si lo eliges bien no pasa nada ¿entiendes? vale porque otra cosa es que antiguamente cuando no teníamos la alteración genética de algunas enfermedades ligadas al X pues elegíamos una chica porque sabiendo no en el caso del Fabry que puede tener síntomas pero enfermedades recesivas ligadas al X sabiendo que la mujer podía ser portadora elegíamos la mujer cuando no hay estudios genéticos de genes en dos palabras pero ahora teniendo la alteración genética no hay problema elegir hombre o mujer no hay problema vale pues muchísimas gracias maría aplausos 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 Grazie a tutti.